ciao a tutti bentornati sul nostro canale ciao oggi ci sarò io con voi anch'io allora prima di partire col tutorial iniziamo con i saluti salutiamo barbie flasti unicorn un bacione ciao e grazie che ci segui franzi kawaii un bacione anche a te e grazie che ci segui sempre alex chiarelli 2006 grazie bacione 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 alex alexia bacione anche a te emoji style a bacione bacione grande 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 e lady nora grazie a tutti che ci seguite grazie veramente grazie di vero buone grazie 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 e continuate a seguirci ora procediamo con il tutorial per fare il nostro tutorial di oggi useremo ancora questo tipo dust e come si possono chiamare i cosini per chiudere il gelo facilmente reperibili ok l'acqua 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 per per lavorare e iniziamo a dopo di che ne stacchiamo un pezzettino a volevo dirvi che ci sto lavorando per l'albero di natale e e fate questo così vedete guardate così così tutto così ok ne fate due striscioline così due 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 fatte due cosine così andiamo a che pizza arrotolarle così è arrivato a simona nel frattempo si era addormentata nel bosco della bella la bestia del bosco della bella la bestia ok così l'eccesso poi qua va tolto arrotolate tutto l'eccesso come ho detto prima con un cortellino di io sono dietro ecco la staglia la simonetta e poi la simonetta tagliamo via ok dopodiché lo facciamo così facciamo così e lo lasciamo asciugare così e lo lasciamo asciugare e poi ne facciamo quanti ne vogliamo una volta asciugati andiamo a colorarli via con le tempera ai colorati c'è qualcuno che passa le cose da dietro da davanti da dietro e volevo farvi vedere domani sono riuscita a fare l'albero ora devo modificare un pochettino e domani faremo in questo tutorial tutto di carta e ragazzi tutto di carta reciclo reciclo e il riciclo bene andiamo colorare va sennò si fa tardi bene ora che li ho colorati guardate io metto i brillantini in colla presi dai cinesi quelli che avete visto ieri metodi luci che viene ho messo i brillantini mostro non li tocco perché se no guardate venici con questo video tutto ci vediamo domani con l'albero restate sintonizzati che poi metteremo le pallozze e pallozze bene tanto t'hanno visto simone inutile che ti nascondi come fai a nasconderti come fai no 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 bene amici con questo video è tutto ciao buonasera è buio ciao buonanotte è da tre ore che ho finito inizio ma se tu mi hai chiamato quando hai incominciato dormi ma non stavo dormendo stavo pensando con questo video è tutto noi vi salutiamo e vi diamo appuntamento a domani ciao